I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DTA a carico di 24 persone, 22 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, le rimanenti due all'obbligo di dimora nel comune di residenza, sottoposte a indagini a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di droga di varia tipologia. Nel corso delle operazioni, svoltesi in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno e che hanno complessivamente impegnato oltre 150 carabinieri con il supporto di elicotteri e unità cinofile, sono state eseguite a carico dei soggetti arrestati e di ulteriori in stato di libertà perquisizioni personali e locali per la ricerca di stupefacenti e altre pertinenti ai reati ascritti. Le accuse nei confronti degli indagati traggono origine da un'articolata attività di indagine intrapresa dai carabinieri di Nocera inferiore in relazione all'esistenza di una fiorente attività di spaccio di droga originata dall'esplosione avvenuta nel 2019 di alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione dell'autovettura in uso a un pregiudicato nocerino. Secondo la prospettazione accusatoria allo stato ritenuta valida dal GIP, le indagini hanno evidenziato l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e crack. Promossa, organizzata e diretta dal 59enne Peppe Catello e dal 28enne Pepe Andrea, entrambi paganesi legati da rapporti di parentela. Un importante ruolo organizzativo in posizione direttamente subordinata ai predetti capi e con funzioni di raccordo e coordinamento della componente operativa di base sarebbe svolta, secondo la ricostruzione ed esumibile, dal provvedimento da Silvestri Gian Antonio, ritenuto titolare di compiti di reclutamento dietro offerta di compenso di altri spacciatori che affiancava nelle fasi iniziali di consegne a domicilio ai vari clienti e di rifornimento di altri pusher, nonché di due importanti piazze di spaccio esistenti all'interno di due abitazioni di Pagani, ove si svolgeva attività di meretricio sovente legata al consumo di droga. Proprio nella consegna a domicilio si estrinsecava sempre, secondo la predetta provvisoria ricostruzione, la prevalente pressoché esclusiva forma di distribuzione dello stupefacente agli acquirenti, compito demandato alla rete di complessivi 22 pusher attiva permanentemente sulla base di organizzazione in turni continuativi, la cui dinamicità era amplificata dalla precauzione di trasportare, al fine di eludere le indagini, nonché i rischi in caso di controlli delle forze dell'ordine, quantitativi minimi afferenti a singole consegne che venivano occultati prevalentemente nel cavo orale e nelle parti intime. Sempre, secondo l'ipotesi accusatoria, il reclutamento e l'ampio impiego operativo di donne, ben dieci quelle tratte in arresto, tra cui la moglie di uno dei promotori che lo coadiuava attivamente ed aveva funzioni di verifica contabile, è un connotato particolarmente significativo dell'attività delittuosa. Oggetto di indagine, l'ampio bacino di acquirenti riforniti a domicilio era distribuito capillarmente in pressoché tutti i comuni dell'agronocerino sarnese e in particolar modo tra Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sarno, San Valentino Torio, Angri, Pompei, Sant'Egidio, del Monte Albino. Dal volume delle sostanze smerciate nel periodo di svolgimento dell'indagine è stato calcolato un flusso di introiti per l'organizzazione ammontante a circa 4 milioni di euro annui. Grazie a tutti.